Giornata decisamente negativa per l'Abruzzo sul fronte emergenza sanitaria. La nostra regione infatti fa registrare 8 nuovi casi di positività al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Ed è proprio la provincia aquilana, quella meno colpita dal Covid durante la fase acuta della pandemia, quella a cui fanno riferimento tutti gli 8 nuovi casi odierni. Con questo ulteriore aumento, dall'inizio dell'emergenza il totale dei contagiati in Abruzzo sale a 3.318. La buona notizia è l'assenza di nuovi decessi, che dunque rimangono fermi a quota 464. 26 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, nessuno in terapia intensiva, mentre gli altri 121, più tre rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. 2.707 sono i dimessi e i guariti, più sei rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 2.690 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 147, con un aumento di due unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 112.505 test. Nel totale dei casi positivi 237 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 827 in provincia di Chieti, 1.593 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per tre casi non è indicata la provenienza.